Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video In questo video siamo tornati su Brawl Stars Ragazzi mi scuso se porto due video di Brawl Stars consecutivamente Ma ragazzi oggi è arrivata un'offerta più speciale che aspettavo da un botto di tempo Finalmente ragazzi potremmo shoppare con i punti stellari le casse ragazzi Andremo a shopparle tutte Non so se prenderò anche... forse la cassa enorme non la prendiamo Credo che prenderò sicuramente due mega casse poi dopo decidiamo In base a quello che troviamo Ragazzi un like, un'iscrizione, una campanella Cercate DixMax su TikTok e su Discord non so cosa sia uscito E vi ricordo che se volete supportarmi un attimo potete fare una donazione Al primo link in descrizione Potete mettere la cifra che volete La descrizione si fa o con Paypal o con la carta di credito Credo che voi non avviate una carta di credito Quindi potete usare quella dei vostri genitori Ovviamente solo se loro consentono Detto questo ragazzi andiamo a prenderci le offerte Poi andiamo a busciare un pochino con Ems che mi piace molto Andrei a shoppare questa qua, questa offerta gigante da 3000 monete 3000 punti stellari, 3000 monete Vediamo un po', sei, sei schifo Potrebbe, potrebbe esserci ecco Al primo ragazzi, al primo E allora ragazzi non so se shopperò anche l'altra mega cassa Perché se trovo qualcosa qua è praticamente inutile Gadget di Ems, quella che dobbiamo usare proprio adesso Questa qua, sei ancora? Ma stavolta non troviamo niente Un altro ancora ragazzi Allora se qua troviamo un brawler Impazzisco È il gadget Gadget di, vabbè dai ci sta eh Cioè non è che serva così tanto questo gadget Ragazzi io provo anche, io provo anche con questa Mega cassa Un'altra offerta ragazzi Ragazzi questa cosa troviamo anche Una leggendaria 5 niente Vabbè ragazzi ci sta Molto molto bene La cassa non lo sopiamo Avremo finalmente anche quest'altra Abilità stellare che andiamo a provare E direi subito di partire A giocare Un bel like ragazzi Dai io ve lo merito C'è un Due, tre partite oggi Dai che ci divertiamo Vi aspetto alle 14 live Giocaremo tutti insieme a Stumble Guys E ci diretteremo come dei matti Proverò a giocare anch'io oggi Così almeno vi faccio vedere Quanto vale Tix Max su Stumble Ok Oh mamma mia Quella Hemsley è una ladra Possiamo chiamarla ladra No Ok ho sprecato il gadget Grande Semino Grande Semino Che ha allontanato Quella Hemsley Allora faccio l'emotica Non è arrabbiata Qua si dovrebbe essere Semino No non è lì Ok ok No no Scusa è venuta Non ci credo Ho giocato veramente malissimo Ragazzi Riproviamo veramente Dai comunque quinta posizione Ci può stare Non abbiamo perso coppe Vi ricordo ragazzi Adesso che mi è appena venuto in mente Se volete entrare in un club Non avete un club Un clan O forse siete in un club Un clan Che non vi piace Potete entrare nel mio Se chiamate Tix Max I trofei necessari Sono zero E quindi potete entrare Tutti ragazzi Entrare tutti Entrare tutti ragazzi Tix Max Nel club di Tix Max Ragazzi dai Entrateci Stavo pensando di creare Un team su StumbleGuys Ragazzi Quindi è stata aggiornata In live Perché facciamo tutto In live Ogni giorno Alle 14 L'orario di luglio e agosto È live Alle 14 Ok molto bene Mi lascio una tara Un po' Due danni Ragazzi io devo farmi la ulti Molto bene Allora Non so se No 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 Quella tara lì Guarda che mi ammazza La vedo male Ok ok Ammazzata tara E io ho un po' Paura di quello Eh raga no Eh no raga C'è pocio C'è pocio C'è pocio Ok A questo pocio Dai direi che lo possiamo Ammazzare tranquillamente Ecco Molto molto bene Mancano 5 Quindi non perdiamo Coppe O no Oh eh vabbè Abbiamo perso C'è pazzo Eh no Complimenti Uuuu E no 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 Non ti azzardare a laggarmi Non ti azzardare a laggarmi Ma cosa fai cioè Ma cosa vuoi Uuuu È proprio questo buzz qui Che mi vuole far perdere Ma dov'è il buzz È andato via Ah ok è andato via È lì È lì È lì È qua dietro al muro Io potrei fare la ultima Ah no È colette Eh c'è buzz C'è Stu Mitix Max Ti conviene spaccare tutto Andiamo a prendere Stu Ok Ok vieni qua Dai ragazzi Voglio far Voglio darvi una vittoria Gadget specato ragazzi Sì Prima vittoria Siamo arrivati quinti Adesso un'auditore Credo che ne faremo altre due Ragazzi Spacchiamo tutto Intanto che troviamo una partita Ragazzi mi voglio di nuovo scusare Che però ho portato due video In seguito di Brunstar Ragazzi ma Non ho voluto aspettare Per questa offerta Ero così contento Che è arrivata finalmente Questa forza Dei punti stellari Che ne ho Ne avevo 20 mili Oh la piper Shot da tre Oh 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 Eh mi ha vinto Oh mamma mia Non c'è bella lì Non ci credo Decimo Raga Quella piper lì Poi è rimasta anche pochissimo Giochiamo ancora Mi ha fatto porre la missione Credo che faremo Questa e poi un'altra Perché quella di prima Non vale Peccato peccato L'ho giocato molto 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 male Comunque ovviamente La piper Allora quella bibi lì Sinceramente Un po' di paura Ragazzi Me la fa A chi è che non fa paura A bibi Io me lo chiedo Facciamo pure le emoti Con felice Allora No 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 Penny Stami Ok stami lontano Perché non Ok Kill Fatta No no Cos'è Ah ok Spavento Pensavo era un brawler Mamma mia Ok Non rischiamocela Troppo Vai raga Vai ragazzi La c'è una scegli La c'è una scegli La c'è una scegli La c'è una scegli Eccola lì Siamo arrivando in 4 Ok c'è Leon Bibi Io devo cercare di fare Ok mi sono fatto la ulti Finalmente Molto bene No no Leon Devi stare lontano Devi stare lontano Leon Leon Stami lontano Ok Leon non c'è O almeno Non ci dovrebbe essere Eh guarda Eh no no Vai a nasconderti Perché scegli C'ha il succo Stai lì Stai lì Dixmax Vi ricordo di nuovo Se volete supportarmi Cercate Dixmax Su TikTok E su Discord Se volete supportarmi Al massimo Una piccola donazione Primo link In descrizione C'è lì Stami lontano Oh mamma mia L'ho rischiata Ragazzi Vi aspetto alle 14 Live Giocheremo tutti insieme A Stumbleguys ragazzi Ci divertiamo Guarda che Bibi Mi sa che ci sono qua Eh ha vinto Bibi Si è dimenticata Eh io sto qua più possibile Adesso raga Ok Bibi Amanzato Leon Non credo che Eh no ha vinto Ho vinto io Ho vinto io Raga Ho vinto Ci godo Non pensavo di vincere Non pensavo Ragazzi Come permesso Facciamo l'ultima partita Poi dopo ci salutiamo Non ci credo Avevo vinto Sì Ho vinto Ho vinto Grandissimo Dixmax Questo merita un like Ragazzi Se non l'avete ancora messo Un like E cercando di arrivare Ora A 260 iscritti Dai ragazzi Spaccate tutto Quel Tasto rosso Iscriviti Schiacciatelo Allora Questo corvo Speriamo No 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 Non lagarmi Ok Molto bene Corvo Ammazzato Sono molto contento Di questo La c'è Iris Molto bene Il corvo L'hiamo tolto Allora Ragazzi Brawler rimanenti Sono solo in 6 Quindi molto molto bene Però mi sta un po' Laggando E non mi piace La situation Non so se Riuscirò A cavarmela E Dynomike Mi farà un po' Di danni Ma io me la rischio C'ho 6 power up C'ho 6 power up E Dynomike Eh bravo Dynomike è molto forte C'ho pure la ultima Lui lascia un po' stare No 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 Dynomike Ti lascio stare No raga Mi sta laggando E questo qui No 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 Stai più lontano Fratello Guarda che non ti conviene Andare contro Etxmax Non ti conviene Andare contro Etxmax Allora mi sta un po' Rompendo Questo Dynomike Oh ci corro Ci corro Colti ammazzalo Non ci credo Non l'ha ammazzato Eh Bravo Bravo Dynomike Allora qua c'è un Dynomike C'è un Co E non Eh perché non c'ho C'ho anche l'abilità sterile sbagliata Che non riesco a curarmi Ho usato il La ulti ragazzi Non l'ho sprecata Perché se non usavo la ulti Morivo Ho allontanato il Colt Grazie Eh vabbè Ragazzi sono morto comunque Vi ringrazio per aver visto questo video Un like Un'iscrizione Una campanella Se volete supportarmi Cercate Dynomike Su Tiktok E su Discord Ci sono i link in descrizione Se volete supportarmi al massimo Una piccola donazione C'è il primo link in descrizione Se non avete un club O un club In cui entrare su ProSats Potete entrare nel mio Si chiama EtixMaxYT Sì va bene Potete entrare nel mio EtixMaxYT E i trofei necessari sono zero Quindi possono veramente Entrare tutti Vi aspetto alle 4 ore Di live Ciao a tutti ragazzi Vi mando un bacio Arriviamo a 260 iscritti E a 10 like Ciao